Le imprese molisane incontrano il mondo dell'università, un modo per favorire la competitività delle piccole e medie aziende e al tempo stesso dare la possibilità ai giovani di acquisire esperienza e competenza. Torna anche quest'anno il Project Work Innovazione, promosso dall'Università del Molise e finanziato dalla Regione nell'ambito del piano integrato Giovani Molise. Oggi la presentazione del progetto nella sede dell'Associazione degli Industriali, 300 laureati hanno aderito all'edizione del 2011, quasi 100 i progetti innovativi proposti, 40 dei quali portati a termine. Alla fine del progetto il 13% degli stagisti è stato assunto. Numeri incoraggianti che hanno spinto i promotori a riproporre l'iniziativa. È uno strumento innovativo che ha a che fare con il piano integrato Giovani Molise e che permette alle aziende di sviluppare progetti innovativi attraverso l'inserimento per sei mesi in tirocinio di ragazzi che abbiano poi la capacità però di scrivere insieme all'azienda il progetto di innovazione. Quindi la particolarità è che i ragazzi che sono laureati in qualche modo sono schillati e vengono formati e quindi noi anche come Università diamo 70 ore di formazione ad hoc sul loro progetto di innovazione che loro andranno a implementare in azienda e di conseguenza anche l'azienda può beneficiare dell'innovazione direttamente acquisita da questi ragazzi. In questo momento di grande crisi cerchiamo di essere vicini ai giovani e poter dare loro insieme con l'Università del Molise appunto uno sbocco in qualche maniera con questa presenza nelle aziende che è importante per iniziare insomma ad avere la contezza del mondo del lavoro. In sostanza i giovani fanno esperienza a tirocini ma le aziende comunque beneficiano di questa forza lavoro nuova tra virgolette insomma. Beh sì, gli stage diciamo adesso stanno funzionando molto bene, le aziende ne usufruiscono sicuramente, è un servizio anche per le aziende questo insomma. Ma c'è la possibilità per i giovani al limite di rimanere poi all'interno dell'azienda una volta terminato lo stage? Questo è quello che noi chiaramente speriamo, che possano rimanere non tutti ma insomma gran parte all'interno delle aziende. Comunque già il fatto di stare sei mesi e fare esperienza lavorativa in una grande azienda, una media azienda è importante per i nostri giovani.